Si è tenuto presso il Centro di Eccellenza di Corigliano Scalo un corso di formazione sulla prevenzione della dipendenza dall'alcol, organizzato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in applicazione del Piano Sanitario Alcol e Salute attraverso l'Unità Ospedaliera di Alcologie ed in collaborazione con i Servizi per le Tossicodipendenze. L'abuso di alcol è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il terzo più importante fattore di rischio per la salute dopo il tabacco e l'ipertensione e oltre a provocare dipendenza determina molte altre patologie nonché gravi eventi traumatici con ripercussioni non solo sanitarie ma anche sociali ed economiche. A questo va aggiunto il drammatico dato che inquadra proprio l'alcol come la causa del 40% degli incidenti stradali che avvengono in Italia e come la prima causa di morte per i giovani dai 18 ai 24 anni. Durante il corso è stato distribuito materiale didattico ed informazione rivolto alle autoscuole e alle forze dell'ordine che quotidianamente hanno a che fare con problematiche correlate all'abuso di alcolici e dalla guida in stato di ebrezza.